E' andato in scena nel pomeriggio di ieri il quarto trofeo Città di Agnone, evento podistico diventato ormai un classico dell'estate della cittadina altomolisana. La manifestazione è stata organizzata dall'Atletica Agnone, presieduta da Giovanni Labbate, ed ha riscosso, oltre ad un buon successo di pubblico interessato alla gara, anche di iscritti. 330 infatti sono stati podisti allo start provenienti dal Molise ma pure dal vicino Abruzzo. Il trofeo Città di Agnone, oltre a rientrare nel circuito del Corri Molise, è stato inserito anche in quello Corri Labruzzo. Spettacolare la campana della Fonderia Marinelli, posizionata a pochi metri dall'arrivo, quasi a dare il benvenuto ad atleti e visitatori, la stessa campana che sarà pure esposta all'Expo di Milano alla fine del mese di settembre. Hanno fatto da ottimo contorno alla manifestazione gli stand dei volontari dell'Aido, associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, che hanno rinnovato per il quarto anno consecutivo una stretta collaborazione con l'atletica Agnone volta a sensibilizzare sportivi e non sul delicato tema della donazione degli organi. La gara è stata preceduta dalla corsa non competitiva dei bambini, partita intorno alle 16.45, che fremevano in attesa di correre per le vie del centro storico agnonese accompagnati dai propri genitori. Lo start della gara vera e propria è avvenuto intorno alle 19.10 con un leggero ritardo sulla tabella di marcia a causa dell'arrivo tardivo di un pullman di atleti abruzzesi rallentati da un incidente incontrato per strada. Qualche minuto prima del via alla corsa hanno sfilato i calciatori dell'Olimpia agnonese che hanno effettuato una passerella simbolica di qualche centinaio di metri, ovviamente correndo. La cronaca del percorso è stata raccontata dallo speaker Roberto Paoletti, collaborato dalla nostra Anna Lisa Ciarlante, co-conduttrice da tre anni della nostra trasmissione di Bandiera Domenica Sport e madrina dell'evento sportivo agnonese. Ecco i risultati finali. Primo tra i maschi Jean Van Eyjuanesa, atleta ruandese 26enne della società Vini Fantini che ha tagliato per primo il traguardo con il tempo di 29 minuti e 45 secondi. A seguire il keniano Joash Koech dell'atletica Porto Potenza con 30 e 49. Terzo classificato il nostro Ivan Di Mario della Polisportiva Molise che ha portato un riscontro cronometrico di 32.05. Per le donne i primi due posti riservati a due keniane. Si tratta di Fait Kimutai dell'Atletica 2005 che ha chiuso con 36.07 e Eunice Kebet dell'Atletica Futura Roma con un tempo di 36.59. Terza una rappresentante azzurra Anna Lisa Gabrielli dell'amatore Villa Panfili sul gradino più basso del podio con 37 minuti 55 secondi. Sentiamo alcune battute dei vincitori della gara maschile e femminile con la traduzione del loro accompagnatore Federico Dionisi. Facciamo una battuta, la pioggia ti ha portato bene? Sì, è stata una gara un po' dura perché ci sono stati molti saliscendi e poi anche le pietre durante il cammino l'hanno un po' ostacolato, non è stata una corsa facile, però il clima è stato molto buono per lui, quindi è soddisfatto, molto soddisfatto. E allora chiediamo la stessa cosa anche alla vincitrice delle donne, Fait Kimutai. Sì, la gara è stata abbastanza dura anche lei, però è contenta del risultato e non c'è molto da dire. Forse un po' timidina Fait Kimutai. Unica nota stonata, la pioggia diventata battente nel corso del club della manifestazione stessa. Proprio per il maltempo si è proceduto alle premiazioni al coperto di un gazebo che non riusciva a contenere alla perfezione tutti gli interessati alle celebrazioni finali a cui hanno presenziato gli sponsor dell'evento, oltre al primo cittadino di Agnone, Michele Carosella. Il presidente Labate ci ha tenuto molto a riservare un gentile omaggio anche alla redazione sportiva di Telemolise, che ha seguito dettagliatamente l'evento podistico, un presente messo a disposizione dalla Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, avente una rilevanza internazionale per i suoi prodotti. Nei prossimi giorni trasmetteremo uno speciale molto accurato che ripercorrerà i vari momenti della gara, dalle fasi iniziali alla sua conclusione, arricchito dalle vive testimonianze di chi ha preso parte al quarto trofeo città di Agnone.